68 aziende parteciperanno alla prima edizione di Meet Italian Brands, il fashion event internazionale dedicato ai brand producer organizzato da Confindustria Campania, Nola Business Park CIS Interporto Campano e ICE, agenzia italiana per l'internazionalizzazione, che si terrà il prossimo 27 e 28 giugno. Location della Due Giorni sarà il Nola Business Park, una vera e propria factory imprenditoriale dei brand retails meridionali nel settore moda. Meet Italian Brands vuole essere un fashion event di networking e relazioni con i mercati esteri, che consente alle aziende del comparto moda, franchising e retail di far conoscere la propria offerta produttiva e dialogare con gli addetti al settore moda del resto del mondo. L'obiettivo è proprio quello di far diventare la manifestazione un riferimento nazionale a un appuntamento fisso annuale. Saranno oltre 100 i buyers internazionali provenienti da 35 paesi e 4 continenti che prenderanno parte alla Due Giorni. L'amministratore delegato di CIS Interporto, Claudio Ricci. La presentazione ai mercati, dove sono in realtà in larga parte già conosciute, di un numero importante di aziende che operano nel settore del fashion. Quindi del mezzogiorno è in gran parte campane, quindi di un distretto molto forte. Parliamo di aziende con brand importanti, di catene distributive importanti e questa è un'occasione per fare un passo importante nella direzione di una maggiore internazionalizzazione e l'ingresso e il consolidamento in mercati diversi da quelli che si sono chiusi recentemente. Alla presentazione dell'evento erano presenti anche Roberto Luongo, direttore generale ICE Agenzia e il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli Fabrizio Luongo. Portare 120 operatori non è una cosa da poco, anzi è una cosa molto importante. Su questo poi noi stiamo sviluppando insieme al dottor Giamundo, alla Confindustria della Campania, a tutti i partici di Nola, tutta una serie di iniziative tese proprio a fare internazionalizzare le imprese. Quindi tenderemo successivamente a questa iniziativa a portarle poi sui mercati esteri. La Camera di Commercio con il presidente Fiola ha tenuto a patrocinare questa bella iniziativa di Confindustria Campania su Sistema Moda che fa una rete importante tra imprese, economia e territorio attraverso l'ICE, quindi l'Istituto Commercio Estero, per rilanciare il nostro prodotto all'estero attraverso la capacità di intercettare buyers importanti di tutto il mondo. Su questo aspetto la Camera di Commercio in Napoli, la terza in Italia per numero di imprese con 320.000 imprese, punterà al rilancio dell'economia del sistema moda.